Salve a tutti, oggi per Transformers Italia recensiamo Hoverhead, ovvero il known afterburner della McToys, membro del loro Computron, ovvero di Quantron. Diciamo, come figura è leggermente più alta delle altre, sicuramente va un plauso incredibile a McToys in cui è riuscito a fare una coppia di figure, un braccio e una gamba di un'altezza e un'altra coppia di un braccio, sempre un braccio e un'altra gamba di un'altra altezza. Sicuramente questo è molto apprezzato nel fatto che non ci sono i personaggi tutti della stessa grandezza, certo, ovviamente non vi aspettate un classe Deluxe e un classe Voyager, sono tutti, come al solito, sempre la solita classe, a metà strada tra uno Scout e un Deluxe. Allora, veniamo al personaggio, il personaggio è molto molto bello, soprattutto nell'accoppiata di colori grigio, bianco e rosso traslucido per le armi e alcuni particolari. Tutte le articolazioni del caso, le solite quindi testa, il collo anche, leggermente il collo, bacino, anche a braccio, ginocchio, piede sub-ball joint per tutte le pose dinamiche, anche qua le braccia, spalla, in esterno è a possibilità di adattare 360 gradi, gomito e polso. Quindi diciamo, tutte le articolazioni che vorremmo trovare in un qualsiasi Transformer. Come effettivamente possiamo metterlo molto estremamente, come tutti i Make Toys, è estremamente posabile, ad esempio ecco qua una posa dinamica, magari può piacere. A chi non piace il Quantron separato, possiamo sicuramente... A chi non piace il Quantron unito, scusate, a chi piace il Quantron separato, quindi solo i personaggi, può sicuramente tenerli separati e fanno la loro bella figura anche senza essere uniti. Anche lui, pieno di armi, divertente, giocabilità estremamente elevata, i cannoni si possono separare dalle ruote e possono essere impugnati dal robot, quindi in questo caso sotto come se fossero delle, diciamo, delle lanciamissi di tonfa. Oppure possiamo anche metterli sulle mani in modo che le posso usare come un'arma. Peccato che in questa maniera poi il braccio perde la sua articolazione, però anche qua sicuramente è molto molto bello. Alla stessa maniera può impugnare entrambi, infatti anche la pistola o il fucile da cecchino può attaccarsi tranquillamente sempre dietro le spalle. Una prerogativa di tutte le armi è che si combinano in... anche qua potete, se non vi piace questa postura con le ruote sulle spalle, a modi sembra quasi un... mettiamola così. Tante citazioni, un cavaliere, un senseia, quindi il doko della bilancia, con gli scudi sulle spalle, oppure possiamo anche, se vi piace di più, aprirlo così in modo che sembra più un... il richiamo alla moto spaziale con cui si trasforma. Dicevamo, la prerogativa, come tutti gli altri membri di Quantron, è tantissime armi e tantissima giocabilità perché sono tutte combinabili. Effettivamente per un personaggio che è... Afterburner, nome reale e overhead, diciamo l'arma che esce fuori combinando le due è una specie di... Ecco qui... Di gigantesco martello, quindi lui in assoluto può andare a combattere... A schiacciare i Decepticon col martello. Come dicevamo, effettivamente è estremamente posabile, possiamo creare ad esempio anche pose complesse con... Con quest'arma, che può sembrare ingombrante, effettivamente lo è. E... Diciamo, un altro valore aggiunto per questi... per questi piccoli capolavori. Allora, prima di passare alla trasformazione, sicuramente apprezziamo qualche altro particolare. Come ho detto, diciamo, mi piacciono molto sicuramente le spalle con questa plastica rossa traslucida. Soprattutto quando sono messa in questa parte, quindi sulla... Dietro la schiena. Ovviamente dietro la schiena si vedono due flap della trasformazione e il perno per diventare braccia. Apprezzo anche la trasformazione che poi vedremo delle gambe, quindi questi elementi traslucidi sulle gambe. E uno zoom al volto che, pur non essendo classico, diciamo, il quadrato classico e richiamo ai combiner, sicuramente ha uno sculpt veramente bello. Proviamo a zoomare... Tutti di esso. Ecco qui. Va bene. Ok, l'ho messo a fuoco. Ecco fatto. Sicuramente molto 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 bello. Allora, veniamo alla trasformazione. Anche qua la trasformazione è semplice, ma ha particolari passaggi che la rendono sicuramente interessante. La prima cosa è... Ruotiamo la testa in modo che finisca sul petto. Allineiamo le spalle, quindi ruotiamo le ruote in maniera frontale e le alziamo in questa maniera. Ora, passiamo a questa trasformazione e allineamento del braccio e della mano, in particolare con questa parte che formerà le carene della moto. Quindi dobbiamo piccare il gommi da 90 gradi, ruotare la mano di 180 gradi in modo che la mano sia sull'esterno e chiuderla. In questa maniera, come vedete, si forma una carena più o meno uniforme. Stesso discorso anche per l'altra mano, quindi ruotiamo di 90 gradi il gomito, quindi pieghiamo il gomito, ruotiamo la mano di 180 gradi e sinceriamoci che sia sempre ben allineata. E anche qua ruotiamo fino ad allineare o quantomeno in parte la carena. Ora, a questo punto possiamo chiudere le due parti. Allora, per chiudere le due parti sicuramente ci sta questo lato della ruota che ha due perni e quest'altro lato che ha altri due perni in rilievo. Come vedete. Ora, dovete allineare bene la ruota, se no non si chiude ovviamente questi due perni in rilievo, rispetto a questi bulloni non solo scolpiti, devono finire ovviamente in questi due fori. Quindi chiudiamo in questa maniera in modo che anche questo perno che ha su questo braccio si inserisca dentro la sua sede che è inserita nell'altro gomito. E cerchiamo di allineare le cose. Ovviamente vi conviene farlo più o meno già quando avete un'idea, perché se no non riuscirete mai a far entrare così a... Come si dice? Al buio non riuscirete mai a far combaciare bene i due pezzi, quindi cercate di allineare prima di fare la chiusura. A questo punto, come vedete, già parte del retro della moto è stato fatto, quindi abbiamo... Abbassiamo la ruota finché non tocca, ovviamente gira, e qua già ci sono i tubi di scappamento scolpiti. In ultimo prendiamo queste due parti e le ruotiamo fin quando non vanno a coprire quest'altra parte, qui. Quindi in modo a formare completamente la parte... Bello, sicuramente particolari, come ho detto sempre, particolari molto scolpiti, che escono fuori quando noi trasformiamo. Ad esempio, ruotando questi pannelli, esce fuori che qui c'è una specie di motore di scolpito. Ecco qui. Ok, abbiamo finito esattamente la parte posteriore della moto. Ora, veniamo alla trasformazione delle gambe che è abbastanza interessante. Per trasformare le gambe dobbiamo far sì che i piedi finiscano nella parte inferiore della gamba. A questo proposito dobbiamo iniziare con... Separare la protezione della gamba che si trasformerà nella carena. Come vedete così. E allungarla. Ed estenderla completamente. Anzi, forse questo è un passaggio che ci conviene fare dopo che abbiamo ruotato il piede. Quindi per ora la separiamo e basta. E quindi allarghiamo le gambe. Oppure possiamo ancora tenerla qui. Anzi, facciamola che la teniamo. Allora, qui c'è una molla all'interno del piede. Quindi non vi stupite. Fate leggermente forza, ovviamente sempre con attenzione. Ma insomma, il meccanismo è fatto appositamente per fare queste rotazioni. Quindi fatela avanzare e state sempre attenti. Qua ci sta quest'altro perno e questo perno qua che possono dare noia durante quest'operazione. Ecco, prima parte. Abbiamo fatto il primo click. Quindi ora gli facciamo la stessa operazione. La risfiliamo in alto e facciamo finire al piede di ruotare. Ecco qua. Nel mentre ovviamente schiacciamo il piede così e chiudiamo con un secondo click. Ecco fatto. Ecco qua. Ecco qua. Allora, controllate che a questo punto possiamo separare la carena, allungarla, e finire di formare praticamente la carena frontale della moto. Controllate soprattutto che il piede si incastri dentro questo perno qui. Ecco fatto. Ora, stesso discorso per l'altra gamba. Prendiamo il piede e facciamolo sfiliamo, vedete? C'è una molla all'interno. Primo click. E ora il secondo click. Con questo piede è un po' più semplice perché non c'è il perno di unione delle due, come in quest'altra metà. E questo ci evita di forzare effettivamente troppo. Ecco, diciamo, il meccanismo è molto sicuramente, è molto rigido, quindi nonostante anche io all'inizio avessi paura di romperlo, non succede nulla. Anche qua allarghiamo la carena, anzi allarghiamo la protezione della gamba che formerà la carena e lo rialliniamo. A questo punto non ci resta che semplicemente unire le due metà, in questa maniera, ecco, e allineare le carene verso l'alto. Come vedete qui c'è questo perno di plastica traslucida che si inserisce all'interno delle mani. Ecco, fatto, ecco qui, overhead in modalità alternativa di moto. Una ruota gigante dietro, due ruote piccole sotto. Lo trovo veramente veramente bella anche questa citazionistica, diciamo, sono sicuro che chi la sta vedendo gli saranno già venute in mente le moto da corsa di Tron. Ottima moto futuristica che sicuramente richiama al Tecnobot. Se vogliamo armare la moto, semplicemente prendiamo il martello, o comunque le armi, la separiamo. Ecco qui, e il fucile si può incastrare dentro questi due perni. Ecco fatto. E i lanciamissili li possiamo inserire in questa. Allora, possiamo effettivamente fare due modalità. Una modalità con il... Quella, diciamo, classica, che ci viene suggerita dalle istruzioni, quindi con i lanciamissili messi in questa maniera. Quindi eccola qua. Quindi, diciamo, con i lanciamissili messi sui... Sui lati. Oppure possiamo separare i lanciamissili e inserirli come se fosse il martello. Quindi con i lanciamissili messi su... Sulla parte superiore del veicolo. In questo caso, ovviamente, qualsiasi trasformazione è ovviamente a vostro gusto. Qua per migliorare potete anche effettivamente metterli... Potete anche metterli in questa altra maniera. Anzi, no. No, purtroppo non è possibile perché sbatte. Però effettivamente avete due tipi di... Potete scegliere due opzioni. O in questa maniera, quindi sopra la parte posteriore, oppure sui lati. Ecco qui. Come volete. Sicuramente anche lui vale la pena. Vale la pena sia in modalità in alt mod che in robot mod. La trasformazione fila via liscia. Non ci sono intoppi. E' divertente da giocare, divertente da manipolare, da mettere in posa. Mettiamola così. Sicuramente un altro complimento a McToys. Che rende i personaggi molto molto belli e giocabili. E a un certo punto quasi ti dispiace doverli combinare. Certo, insomma, ci sarà chi, beati, i fortunati, che possono permettersi il doppia copia. Signori, qui con Overhead. Overhead. Fulvio. Per Transformers Italia. Buonasera. Vivo.